La facoltà di Tom. Dà un'occhiata a questo semplice problema. Tom è uno studente di una grande università. Sei pregato di classificare da 1 a 9 in ordine decrescente di probabilità i seguenti 9 corsi di laurea, cui potrebbe essere iscritto. Gestione aziendale, informatica, ingegneria, lettere, scienze dell'educazione, giurisprudenza, medicina, biblioteconomia, scienze biologiche e fisica, scienza sociale e assistenza sociale. Il problema è facile e si capisce immediatamente che il numero relativo degli studenti iscritti alle varie facoltà è la chiave della soluzione. A quanto ne sai, Tom è stato scelto a caso tra gli universitari come una biglia dal famoso vaso. Per decidere se è più probabile che una biglia sia rossa o verde, bisogna sapere quante biglie di ciascun colore si trovano nel vaso. La proporzione di biglie in un dato colore è chiamata probabilità a priori o frequenza di base. Analogamente, la probabilità a priori che Tom sia iscritto a lettere e scienze dell'educazione in questo problema è la percentuale di studenti di quella facoltà tra tutti gli iscritti all'università. In assenza di informazioni specifiche circa Tom, ti regolerai in base alla probabilità a priori e calcolerai che è più probabile sia iscritto a lettere o scienze dell'educazione che è informatico o biblioteconomia, perché sono molto più numerosi gli iscritti a lettere e scienze dell'educazione che le altre due facoltà. Usare le informazioni fornite dalla probabilità a priori è la mossa naturale da fare in assenza di altri dati. Poi viene proposto un compito che non ha niente a che fare con la probabilità a priori. Qui sotto è riportato un profilo della personalità di Tom, scritto sulla base di test psicologici di dubbia validità, da uno psicologo durante l'ultimo anno di liceo di Tom. Tom è molto intelligente, anche se manca di vera creatività. Sente il bisogno di ordine e chiarezza, di sistemi ordinati e precisi in cui ogni particolare sia il posto giusto. La sua prosa è abbastanza opaca e meccanica, ogni tanto ravvivata da kalenbur piuttosto banali e da lampi di immaginazione di tipo fantascientifico. È molto motivato a raggiungere la competenza. Mostra poca empatia e poca comprensione per gli altri e non ama interagire con loro. Egocentrico, ha tuttavia un profondo senso morale. Ora prendi un foglio di carta e assegna a ciascuno dei 9 corsi di laurea elencati qui sotto il numero da 1 a 9 in ordine dei crescenti probabilità che ti pare corrispondere alla probabilità che Tom sia il tipico studente di quella facoltà. Trarrai maggior profitto dalla lettura di questo capitolo se proverai a fare un attimo il test. Occorre leggere il rapporto su Tom per formulare un giudizio sulle varie facoltà. Anche qui il problema è chiaro. Bisogna recuperare dalla memoria o magari costruire ex novo uno stereotipo dello studente universitario dei vari corsi elencati. Quando nei primi anni 70 l'esperimento fu condotto per la prima volta, la classifica media risultò essere questa. E forse la tua non sarà molto diversa. Informatica, ingegneria, gestione aziendale, scienze biologiche e fisica, biblioteconomia, giurisprudenza, medicina, lettere e scienze dell'educazione, scienze sociali e assistenza sociale. Avrai probabilmente classificato informatica tra le facoltà più adatte a causa dell'accenno a caratteristiche nerd del personaggio. Calenbor piuttosto banali. In realtà si è descritto Tom in quel modo perché corrispondesse allo stereotipo. Un'altra facoltà che la gente ha ritenuto molto probabile è ingegneria, sistemi ordinati e precisi. Avrai probabilmente pensato che Tom non fosse molto adatto all'idea che ti sei fatto delle scienze sociali e dell'assistenza sociale, poca empatia e poca compressione per gli altri. A quanto pare, gli stereotipi professionali sono cambiati poco nei quasi 40 anni trascorsi da quando ideai per la prima volta il profilo di Tom. Il compito di classificare le nuove potenziali carriere è complesso e richiede senza dubbio la disciplina e l'organizzazione sequenziale di cui solo il sistema 2 è capace. Tuttavia, gli accenni inseriti qua e là nella descrizione, Calenbor banale e altro, erano intesi a innescare l'associazione con uno stereotipo, che è un'attività automatica del sistema 1. Le istruzioni del compito di somiglianza erano di confrontare il profilo psicologico di Tom con gli stereotipi dei vari settori di specializzazione. Ai fini del compito, l'accuratezza della descrizione, se sia o no un vero ritratto di Tom, è irrilevante. Altrettanto irrilevante è conoscere la probabilità a priori dei vari campi. La somiglianza di un individuo con lo stereotipo di un gruppo non è influenzata dalle dimensioni del gruppo. Anzi, si potrebbe confrontare la descrizione di Tom con l'immagine degli studenti di biblioteconomia, anche se non esistesse una simile facoltà all'università. In Italia non esiste la facoltà universitaria di biblioteconomia e la materia fa parte del corso di laurea in lettere. Se esamini di nuovo il profilo di Tom, vedrai che corrisponde non poco agli stereotipi degli studenti di facoltà poco frequentate, informatici, bibliotecari, ingegneri, e molto meno agli stereotipi degli studenti di facoltà molto più frequentate, lettere, scienze dell'educazione, scienze sociali e assistenza sociale. Di fatto, i partecipanti al test hanno quasi sempre messo agli ultimi due posti facoltà come lettere e scienze sociali, che contano il maggior numero di studenti. Tom è stato deliberatamente concepito come personaggio anti-probabilità a priori, adatto ai corsi di laurea con meno iscritti e non a quelli con più iscritti. Predire in base alla rappresentatività Il terzo compito della sequenza fu proposto a studenti di psicologia ed è quello più difficile. I membri di questo gruppo di predizione conoscevano i dati statistici essenziali come la probabilità a priori dei vari corsi di laurea e sapevano che lo psicologo che aveva redatto il giudizio su Tom in base a test di dubbia validità non era molto attendibile. Tuttavia, prevedevamo che si concentrassero esclusivamente sulla somiglianza tra la descrizione e lo stereotipo, la definimmo rappresentatività, ignorando sia la probabilità a priori sia i dubbi in merito alla veridicità della descrizione. A quel punto avrebbero classificato come altamente probabile il corso di laurea con pochi iscritti in informatica perché quel risultato registrava il più alto punteggio di rappresentatività. Amo se io lavorammo sodo l'anno che passammo a Eugene e io a volte rimanevo in ufficio tutta la notte. Uno dei miei compiti, durante una di quelle notti insonni, fu di creare una descrizione che contrapponesse rappresentatività e probabilità a priori. Tom fu il risultato dei miei sforzi e completai la descrizione alle prime luci dell'alba. La prima persona che comparevi in ufficio la mattina fu il nostro collega e amico Robin Dawes. Un raffinato statistico molto scettico riguardo alla validità del giudizio intuitivo. Se c'era qualcuno che poteva capire la rilevanza della probabilità a priori, quel qualcuno era lui. Lo chiamai, gli posi il problema che avevo appena ideato e gli dissi di nominare quale fosse la professione di Tom. Ricordo ancora il suo sorriso sornione quando disse titubante Informatico Fu un momento felice, anche i grandi cadevano. Naturalmente, appena menzionai l'espressione probabilità a priori, Robin riconombe immediatamente il suo errore ma non ci aveva pensato spontaneamente. Benché conoscesse meglio di chiunque altro il ruolo della probabilità a priori nella perdizione. Lo aveva trascurato quando si era trovato davanti alla descrizione della personalità di un individuo. Come previsto, aveva sostituito alla probabilità che gli era stato chiesto di valutare un giudizio di rappresentatività. Amosio raccogliemo poi le risposte alla stessa domanda fornita da 114 studenti di psicologia di tre grandi università, ciascuno dei quali aveva frequentato diversi corsi di statistica. Non ci delusero. La loro classificazione in ordine di probabilità decrescente dei nove corsi di laurea non differiva dalla classificazione per somiglianza con lo stereotipo. In quel caso la sostituzione era perfetta. Ogni indizio dimostrava come i soggetti non avessero fatto altro che giudicare la rappresentatività. Il problema della probabilità era difficile mentre il problema della somiglianza era più facile e avevano risposto a quello. È un grave errore perché i giudizi di somiglianza e probabilità non sono vincolati dalle stesse regole logiche. È del tutto accettabile che i giudizi di somiglianza siano influenzati dalla probabilità a priori e anche dalla possibilità che la descrizione sia imprecisa. Ma chiunque ignori la probabilità a priori e la qualità dell'evidenza nei giudizi di probabilità commetterà sicuramente errori. Il concetto la probabilità che Tom studi informatica non è semplice. Logici e statistici dissentono sul suo significato e alcuni direbbero che non ha alcun significato. Per molti esperti è una misura del grado soggettivo di credenza. Vi sono alcuni eventi di cui siamo sicuri come che il sole sorgava stamattina e altri che consideriamo impossibili come che l'intero oceano pacifico si congeli all'improvviso. Poi vi sono molti eventi per esempio che il nostro vicino di Pianerottolo sia un informatico a cui attribuiamo un grado intermedio di credibilità e quella è la probabilità che assegniamo a tale evento. Logici e statistici hanno messo a punto definizioni di probabilità molto precise in concorrenza tra loro. Per i profani però la probabilità è un concetto vago connesso all'incertezza alla tendenza alla plausibilità e alla sorpresa. La vaghezza non è inusitata né particolarmente inquietante. Sappiamo più o meno che cosa intendiamo quando parliamo di democrazia o bellezza e le persone con cui conversiamo capiscono più o meno quello che vogliamo dire. In tutti gli anni che ho trascorso a porre domande sulla probabilità degli eventi nessuno ha mai alzato la mano per chiedermi che cosa intende con probabilità? Come avrebbe fatto se gli avessi chiesto di valutare uno strano concetto come la globalità? Tutti si comportavano come se sapessero in che modo rispondere alle mie domande anche se era chiaro a tutti che sarebbe stato ingiusto chiedere loro di spiegare il significato della parola. Non interpretando il termine nel significato a esso attribuito tra statistici e filosofi i soggetti invitati a valutare la probabilità non appaiono disorientati. Una domanda sulla probabilità innesca uno schioppo mentale ed evoca risposte a domande più facili. Una delle risposte facili è una valutazione automatica della rappresentatività un'operazione di routine nell'ambito della comprensione del linguaggio. L'asserzione falsa secondo la quale i genitori di Elvis Presley volevano che il figlio diventasse dentista fa sorridere perché la discrepanza tra le immagini di Presley e quella di un dentista viene rilevata immediatamente. Il sistema 1 genera un'impressione di somiglianza senza volerlo è in atto un'euristica della rappresentatività quando qualcuno dice vincerà le elezioni perché è proprio il tipo del vincente oppure ha troppi tatuaggi per fare carriera in campo accademico. Ci affidiamo alla rappresentatività quando giudichiamo la potenziale leadership di un candidato a una carica in base alla forma del suo mento o al vigore dei suoi discorsi. Benché sia comune predire in base alla rappresentatività non è statisticamente ottimale. Moneyball il best seller di Michael Lewis racconta l'inefficacia di questa modalità di predizione. Quando vanno in cerca di nuovi talenti per tradizione gli scout del baseball professionistico valutano il successo di potenziali giocatori anche guardando la loro struttura fisica e il loro aspetto. Il protagonista del libro di Lewis è Billy Bain manager degli Oakland Athletics che prese la decisione impopolare di non dare retta ai suoi scout e cominciò a scegliere i giocatori in base ai dati statistici sulle loro performance. I giocatori che gli Oakland Athletics acquistarono costavano poco perché altre squadre li avevano rifiutati giudicando che non avessero il fisico adatto e presto la squadra registrò eccellenti risultati a basso costo. I peccati della rappresentatività Giudicare la probabilità in base alla rappresentatività comporta alcuni importanti vantaggi. Le impressioni intuitive prodotte da questo tipo di giudizio sono spesso anzi quasi sempre più precise di quanto non lo siano le intuizioni casuali. Nella maggior parte dei casi le persone che si comportano in maniera amichevole sono effettivamente amichevoli. È assai più probabile che un atleta professionista molto alto e magro giochi a basket che non a calcio. È più probabile si abbonino al New York Times i laureati che i diplomati. È più probabile riscontrare una guida aggressiva tra i giovani uomini che tra le donne anziane. In tutti questi casi e in molti altri c'è qualcosa di vero negli stereotipi che governano i giudizi di rappresentatività e le predizioni che seguono questa euristica a volte sono precise. In altre situazioni gli stereotipi sono falsi e l'euristica della rappresentatività è forviante specie se induce a ignorare informazioni relative alla probabilità a priori che indicano in un'altra direzione. Anche quando l'euristica ha una certa validità affidarvisi in maniera esclusiva comporta gravi peccati contro la logica statistica. Uno dei peccati della rappresentatività è l'eccessiva tendenza a predire e verificarsi di eventi improbabili con bassa probabilità a priori. Ecco un esempio nella metropolitana di New York che vedi qualcuno leggere in New York Times quale delle seguenti ipotesi è più probabile in merito all'ignoto lettore? È laureato non è laureato. La rappresentatività ci direbbe di optare per la laurea ma non è detto che sia un'opzione saggia. Dovremmo considerare seriamente la seconda alternativa perché nella metropolitana di New York è molto più facile incontrare persone non laureate che laureate e se si dovesse decidere se una donna che è definita timida amante della poesia studia letteratura cinese o gestione aziendale converrebbe scegliere la seconda opzione. Anche se tutte le studentesse di letteratura cinese fossero timide e amassero la poesia è pressoché certo che vi sono più timide amanti della poesia nell'assai più ampia popolazione degli iscritti a gestione aziendale. Le persone che non hanno studiato statistica sono capacissime di usare in determinate condizioni le probabilità a priori nei loro pronostici. Nella prima versione dei problemi di Tom che non fornisce alcun dettaglio su di lui è evidente a tutti che la probabilità che Tom si è iscritta a una particolare facoltà è semplicemente la frequenza di base dell'iscrizione a quella facoltà. Tuttavia l'interesse per la probabilità a priori chiaramente sparisce appena viene descritta la personalità del personaggio fittizio. In origine Amos e io credevamo sulla base delle prime prove da noi raccolte che i dati relativi alla probabilità a priori fossero sempre trascurati quando erano disponibili le informazioni riguardanti l'esempio specifico ma quella conclusione era troppo estrema. Alcuni psicologi hanno condotto diversi esperimenti in cui menzionavano esplicitamente nel problema le probabilità a priori e molti soggetti erano influenzati da esse sebbene assegnassero quasi sempre più peso alle informazioni sul caso individuale che ai meridati statistici. Norbert Schwartz e i suoi colleghi hanno dimostrato che dire alle persone di pensare come statistici rafforzava l'uso della probabilità a priori mentre dire loro di pensare come clinici aveva l'effetto opposto. Un esperimento condotto alcuni anni fa su un campione di studenti di Harvard diede un risultato che mi sorprese. attivare maggiormente il sistema 2 portava a migliorare sensibilmente l'esattezza predittiva del problema di Tom. L'esperimento coniugava il vecchio problema con una moderna variante della fluidità cognitiva. A metà degli studenti fu detto di gonfiare le guance mentre eseguivano il compito mentre agli altri fu detto di corrugare la fronte. Come abbiamo visto aggrottare le sopracciglia in genere aumenta la vigilanza del sistema 2 e riduce sia l'eccessiva fiducia in sé sia il ricorso all'intuizione. Gli studenti che gonfiarono le guance un'espressione emozionalmente neutra riprodussero i risultati registrati originariamente si affidarono esclusivamente alla rappresentatività e ignorarono le probabilità a priori invece gli accigliati come avevano previsto gli ideatori dell'esperimento mostrarono una certa sensibilità alle probabilità a priori è un risultato istruttivo. Quando si formula un giudizio intuitivo scorretto bisognerebbe incolpare sia il sistema 1 sia il sistema 2 il sistema 1 ha suggerito l'intuizione sbagliata e il sistema 2 l'ha avallata ed espressa sotto forma di giudizio vi sono però due possibili motivi del fallimento del sistema 2 l'ignoranza e la pigrizia alcuni soggetti ignorano le probabilità a priori perché le ritengono irrilevanti in presenza di informazioni specifiche altri commettono lo stesso errore perché non sono concentrati sul compito se aggrottare la fronte fa la differenza la pigrizia pare essere la giusta spiegazione della disattenzione per la probabilità a priori almeno tra gli studenti di Harvard il loro sistema 2 sa che le probabilità a priori sono rilevanti anche quando non sono menzionate esplicitamente ma usa quella conoscenza solo quando si impegni in modo particolare nel compito il secondo peccato della rappresentatività è l'insensibilità alla qualità delle prove ricordati la regola del sistema 1 what you see is all there is quello che si vede è l'unica cosa che c'è nell'esempio di Tom ad attivare i tuoi meccanismi associativi è stata la descrizione di Tom che magari è accurata ma magari no leggere che Tom mostra poca empatia e poca comprensione per gli altri è probabilmente bastato a convincere te e alla maggior parte degli altri lettori che è assai improbabile sia uno studente di scienze sociali o un futuro assistente sociale eppure ti era stato detto esplicitamente che non ci si poteva fidare della descrizione senza dubbio capisci che in linea teorica tra il possesso di informazioni inutili e la totale mancanza di informazioni non dovrebbe esserci alcuna differenza eppure il watch you see is all there is rende assai difficile applicare tale principio nella pratica a meno che non si decida fin dall'inizio di prescindere dalle informazioni disponibili per esempio stabilendo che le sia ricevute da un bugiardo il sistema 1 le elaborerà automaticamente come se fossero vere una cosa si può fare quando si hanno dubbi sulla qualità delle prove fare in modo che i propri giudizi sulla probabilità non si scossino troppo dalla probabilità a priori non credere che questo esercizio di disciplina sia facile richiede un notevole sforzo di autocontrollo e automonitoraggio il modo corretto di rispondere al problema di Tom è non scostarsi troppo dalle probabilità a priori riducendo un poco le probabilità inizialmente alte di corsi di laurea molto affollati lettere e scienze dell'educazione scienze sociali e assistenza sociale e aumentando un poco le basse probabilità di facoltà poco frequentate biblioteconomia informatica non sai esattamente dove resti se non avessi saputo nulla di Tom ma le poche prove di cui disponi non sono degne di affidamento sicché le probabilità a priori dovrebbero dominare le tue stime come disciplinare l'intuizione la probabilità che assegniamo all'ipotesi che domani piova rappresenta il nostro grado soggettivo di credenza ma non dovremmo cedere all'impulso di credere a qualunque cosa ci venga in mente per essere utili le nostre credenze devono essere vincolate alla logica della probabilità se quindi crediamo vi sia un 40% di probabilità che piove in un certo momento della giornata di domani dobbiamo anche credere che vi sia un 60% di probabilità che domani non piova e non dobbiamo credere vi sia un 50% di probabilità che piova domattina e se crediamo vi sia il 30% di probabilità che il candidato X sia eletto presidente e l'80% di probabilità che sia rieletto in caso di vittoria dobbiamo credere che la probabilità di una doppia elezione sia del 24% le regole attinenti a casi come quello di Tom sono fornite dalla statistica bayesiana questo cruciale metodo statistico moderno porta il nome di un pastore inglese del 700 il reverendo Thomas Bayes che ebbe il merito di dare il primo importante contributo alla soluzione di un grande enigma la logica in base alla quale la gente dovrebbe cambiare parere alla luce delle prove la legge di Bayes stabilisce che le credenze precedenti negli esempi di questo capitolo le probabilità a priori vanno combinate con la diagnosticità delle prove ovvero con il grado in cui le prove favoriscono l'ipotesi rispetto all'alternativa per esempio se si crede che il 3% degli studenti si iscrivano a informatica la probabilità a priori e si crede anche che data la sua descrizione sia 4 volte più probabile che Tom corrisponda a un studente di informatica che ha una di altre facoltà la legge di Bayes dice che la probabilità che Tom sia un informatico è dell'11% se la probabilità a priori fosse stata dell'80% il nuovo grado di credenza sarebbe stato del 94,1% e così via in questo libro non ci occupiamo dei dettagli matematici vi sono due idee da tenere a mente riguardo la logica Bayesiana e come tendiamo a sconvolgerla la prima è che le probabilità a priori contano anche in presenza di prove sul caso in questione è un dato che spesso non è intuitivamente ovvio la seconda è che l'impressione che abbiamo intuitivamente della diagnosticità delle prove è spesso esagerata la combinazione del what you see is all there is con la coerenza associativa tende a farci credere nelle storie che ci raccontiamo da soli ecco come si possono riassumere i punti essenziali della rigorosa logica Bayesiana ancorate il vostro giudizio della probabilità di un risultato a una probabilità a priori plausibile mettete in discussione la diagnosticità delle vostre prove sono entrambe idee semplici fu per me uno shock quando mi resi conto che non mi avevano mai insegnato ad applicarle e ancora oggi trovo innaturale farlo a proposito di rappresentatività il prato è ben tosato la segretaria sembra competente e i mobili sono belli ma questo non significa che sia un'azienda ben gestita spero che il consiglio di amministrazione non si ispiri solo alla rappresentatività questa start up ha l'area di non poter fallire ma la probabilità a priori di un successo nel settore è estremamente bassa come facciamo a sapere se questo caso è differente continuano a fare sempre lo stesso errore per dire eventi rari in base a prove deboli quando le prove sono deboli bisognerebbe attenersi alla probabilità a priori so che questo rapporto è assolutamente negativo e magari si fonda su solide prove ma quanto siamo sicuri di queste prove nel nostro giudizio dobbiamo tenere conto dell'incertezza grazie a tutti